Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. La giornata di lunedì vedrà ancora qualche nota instabile sulle nostre regioni, specie quelle centro-settentrionali, per residui correnti dai quadranti settentrionali che scorrono dal nord Europa verso il nostro paese. Ma nel contempo l'alta pressione tenderà lentamente a rimontare dal nord Africa nel corso della settimana. Ma vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra ancora delle nuvole che interessano soprattutto il nord Italia, in parte anche il centro, qualche velatura attesa anche sulle isole maggiori. Più nel dettaglio quindi della previsione sul nostro paese avremo lunedì nel complesso soleggiato al centro-sud, seppur con qualche nuvola di passaggio e locali piovaschi possibili durante le ore pomeridiane sull'Appennino. Maggiore variabilità attesa al nord, seppur con clima un po' più asciutto in pianura, ma con frequenti piogge e acquazzoni nelle ore centrali del giorno sui settori alpini e anche pedemontani localmente. Temperature che riprenderanno un po' a salire, ma comunque con clima gradevole, soprattutto sul nord Italia. Per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.